Il 13 settembre si torna a scuola e il comune di Teramo si fa trovare pronto per una partenza in sicurezza negli edifici scolastici comunali. Impianti elettrici nuovi e moderni sistemi antincendio sono stati appena completati nelle scuole primarie di San Berardo, Risorgimento e Serroni. A piano solare e collaterrato i lavori si sono già conclusi da mesi, mentre resta ancora da intervenire sulla Zippilli dove entro l'anno tutto sarà sistemato. Parola dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Teramo Giovanni Cavallari. Qualche giorno fa abbiamo presentato i lavori che abbiamo seguito a San Nicolò, a Serroni e abbiamo riqualificato un intero stabile perché i lavori che oggi andiamo a vedere sono lavori che riguardano prettamente l'antincendio e l'adeguamento antincendio. Ma nello stesso tempo abbiamo fatto anche dei lavori suggeriti dalla dirigenza scolastici e lavori che sono stati condivisi sia sotto il profilo progettuale e non solo progettuale dalla stessa dirigente che in qualche modo ci ha dato dei suggerimenti e abbiamo cercato di raccogliere. Questa scuola oggi torna ad essere una scuola sicura sotto il profilo dell'adeguamento antincendio, ha bisogno anche di lavori che possano riguardare gli aspetti prettamente sismici ma che successivamente saranno fatti, ma è una scuola che non ha ancora un finanziamento per l'adeguamento sismico rispetto ad altre scuole per cui la necessità di fare questi lavori immediatamente erano praticamente necessari affinché i ragazzi che frequentano l'istituto possano stare nel modo più sicuro possibile. Nella scuola primaria San Berardo in particolare il comune di Teramo ha realizzato inoltre una scala di sicurezza esterna che ha permesso di recuperare un piano dell'edificio ed aumentare così lo spazio a disposizione dei bambini. C'è stata un'ottima sinergia fra scuola e comune per quanto riguarda questi lavori, quindi confermo le parole dell'assessore. Per quanto riguarda il covid noi siamo pronti perché praticamente dobbiamo continuare qualcosa di lasciato sospeso a giugno. Nel rispetto dei protocolli nazionali, il protocollo d'istituto, stiamo preparando tutto, siamo pronti e speranzosi che tutto possa andare bene.